Carla è stata messa in lista d'attesa per sottoporsi a un'operazione chirurgica, un anno fa. Nel frattempo Carla ha compiuto 50 anni e per cercare di tirarle sul morale la famiglia le ha organizzato una festa a sorpresa. Poi ha ricevuto la notizia del fidanzamento del figlio Lorenzo. Tra pochi mesi lo dovrà accompagnare all'altare e chissà se per quel giorno si sarà già operata. Insomma, la sua vita procede, certo, ma con delle restrizioni. Organizzare una vacanza, per esempio, è fuori questione. E in più sta per diventare nonna, che se da un lato è un motivo di gioia, dall'altro, beh, il fatto di non sapere se arriverà prima il nipote o la chiamata la fa stare in ansia. E andare in settimana bianca come una volta, così per distrarsi? No, neanche a parlarne. Eccoci qua, è di nuovo Capodanno. Quello che Carla non sa è che le cose non devono andare per forza così. Carla, vuoi passare un altro anno a guardare il telefono? E allora non aspettare la chiamata? Su, chiama Cittadinanza Attiva. Attivati. Non lasciare i tuoi diritti solo sulla carta. Grazie. 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 Grazie.